Ritrovati due liceali scomparsi, Nicolas ed Emanuele, sono a casa. Furti in serie a Fano, arrestata una coppia a Romagnola. Dai Rubinetti un'acqua sempre più buona, cresce la qualità idrica. Sport domani, partita cruciale per la VL contro Napoli. Eccoci pronti per il nostro telegiornale, buona serata a tutti. Oggi è venerdì 20 novembre, questa sera apriamo con una buona notizia. Col sospiro di sollievo della notizia del ritrovamento questa mattina dei due liceali pesaresi che risultavano scomparsi da mercoledì. Dopo due giorni e due notti di scomparsa, sono stati ritrovati questa mattina, poco prima delle 7.30, Nicola Surbinati e Emanuele Pucci. Due sedicenni compagni di classe al liceo Marconi di Pesaro che mercoledì non si sono presentati a scuola, rendendosi irreperibili e gettando nel panico due famiglie che, nella giornata di ieri, hanno reso pubblica la scomparsa in un tam-tam via social, innescato dalla protezione civile di Pesaro che aveva anche diramato l'identikit fisico e dell'abbigliamento di Nicola Surbinati. È scattata la denuncia ai carabinieri che hanno avviato le ricerche anche alla luce di un eloquente biglietto lasciato da Nicola con scritto «Non ci sentiremo per un po'.» Proprio la protezione civile di Pesaro, questa mattina alle 8.20, ha annunciato via Facebook il ritrovamento dei due adolescenti e il ricongiungimento alle rispettive famiglie. Quella di Nicola, residente in zona celletta, quella di Emanuele, in via Lubiana, a pochi passi dalla chiesa di Santa Croce. I carabinieri avevano allargato le ricerche anche a Macerata dove è emerso ieri pomeriggio un collegamento telematico dei due liceali alla piattaforma della scuola ma poi i due ragazzi sono stati ritrovati questa mattina grazie alla chiamata di un cittadino al 112 che li ha visti alla stazione degli autobus di Fano e li ha riconosciuti. I due sono stati trovati in buone condizioni di salute facendo uscire da un incubo due famiglie alle quali spetterà ora comprendere le ragioni di questo gesto. Enorme il sospiro di sollievo anche a scuola. Noi ieri abbiamo avuto questa informazione dai carabinieri sono venuti direttamente in sede a informarci della scomparsa dei due ragazzi è chiaro che prevassi immediatamente la preoccupazione la preoccupazione per loro ovviamente in primis e anche per la famiglia. Poi stamattina fortunatamente dai si è risolta la vicenda abbiamo tirato un sospiro di sollievo siamo veramente felici di questo ma nel contempo siamo anche preoccupati che la cosa non si ripeta perché questa è veramente una bravata di cui se ne può fare a meno. Giornata di lieve calo dei contagi nella nostra regione Marche con 210 nuovi casi i di cui 26 in provincia di Pesaro Urbino una cifra che vede abbassarsi al 10% la percentuale di contagio e scendere da 88 a 85 l'incidenza di casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Scendono di un'unità anche i ricoveri ora sono 91 di cui 21 in terapia intensiva. Oggi si è registrato un decesso si tratta di una donna di 82 anni di fermo. Contagi e ricoveri che si combattono con i vaccini e la foto che vi mostriamo ora inviataci da una telespettatrice che ringraziamo mostra un importante afflusso di persone quest'oggi al centro vaccinale pesarese del Rossini Center. Ed ora cambiamo argomento ci spostiamo a Fano con alcune notizie di cronaca una coppia romagnola formata da un uomo di 35 anni e una donna di 30 anni sono stati arrestati oggi dalla polizia di Fano in quanto ritenuti responsabili di una serie di furti avvenuti quest'estate. Avrebbero infatti messo a segno vari colpi all'interno della struttura sociale per tossicodipendenti dove la donna, tra l'altro neomamma, era ospitata e poi furti in farmacie, negozi, abitazioni private del centro storico di Fano ma soprattutto nei parcheggi dove si stima abbiano rubato una ventina di bici elettriche che poi caricavano in treno in direzione Rimini. Cinque bici sono già state recuperate e riconsegnate ai proprietari. Ed ora da Fano ci spostiamo a Urbino con altre notizie di cronaca le foto che vi mostriamo ci provengono da Urbino dove i vigili del fuoco sono intervenuti con un fuoristrada e un elicottero proveniente da Arezzo per soccorrere una persona con il suo cane smarritosi in località San Giovanni in Ghiaiolo l'uomo disorientato è stato trovato in buone condizioni di salute. Quest'altra foto arriva invece dalla strada provinciale delle Cesane dove il servizio viabilità della provincia ha riaperto al traffico questa mattina la strada chiusa da ieri pomeriggio a causa di un auto articolato rimasto incastrato in una curva gomito vicino all'azienda forestale Campo d'Asino a Fossombrone. Attraverso una ditta specializzata il mezzo è stato rimosso per consentire il ripristino della circolazione. Bere acqua dal rubinetto significa bere un'acqua buona economica e sempre controllata lo ribadisce Marche Multiservizi che questa mattina ha presentato il report annuale sulla qualità del servizio idrico nel nostro territorio. Un'acqua buona, ecologica, economica comoda e controllata 5 buoni motivi per bere l'acqua dei nostri rubinetti. Ne è convinta Marche Multiservizi che oggi ha presentato in buone acque il report annuale riferito al 2020 di un servizio idrico che continua a crescere in qualità. Perché è economica perché costa molto meno delle acque minerali e quindi ogni famiglia può risparmiare oltre 400 euro all'anno bevendo l'acqua dal rubinetto. Fa bene all'ambiente perché evitiamo di portare e inquinare attraverso il trasporto delle acque minerali e quindi poi anche il recupero delle bottiglie di plastica e di vetro. È sicura perché facciamo oltre 100.000 analisi all'anno quindi circa 280 analisi al giorno e sicuramente comoda perché ce la troviamo nel rubinetto di casa anziché dover andare ai supermercati e portarci alla casa. Quindi bere dell'acqua del rubinetto fa bene sia dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico per le famiglie per i cittadini e anche per le imprese. E dunque ci sono 277.000 cittadini di 47 comuni serviti da Marche Multiservizi che hanno ottimi motivi per bere acqua dal rubinetto. Lo ha già capito il 38% dei clienti che la beve evitando la circolazione di 21 milioni di bottiglie di plastica e risparmiando 460 euro annui. Evitiamo il trasporto delle acque imbottigliate evitiamo i rifiuti di plastica delle bottiglie. Su questa linea anni fa insieme ai sindaci del territorio sono state individuate anche delle casette dell'acqua distribuite all'interno della nostra provincia proprio per dare questo tipo di risposte. Innalzare la qualità dell'acqua e avere una percezione rispetto alla risorsa idrica un pochino più elevata all'interno del nostro territorio. L'acqua del nostro territorio è un'acqua veramente di qualità e quello che stiamo mettendo in campo insieme alle amministrazioni e all'autorità di ambito è quella di innalzare ancora di più il livello dell'acqua la qualità dell'acqua mettendo a sistema anche delle interconnessioni attraverso le intervallive delle aree interne questo proprio per non sprecare nessun litro di acqua. Ed è una qualità crescente che corre di pari passo ai crescenti investimenti in termini di depurazione. Abbiamo praticamente completato i lavori dell'inflazione comunitaria di Pesaro e di Rubino Pesaro oggi è depurato al 98% faremo l'inaugurazione prossimamente del nuovo depuratore di Borgeria e stiamo procedendo sul Foglia con il raddoppio del depuratore di Montecchio e abbiamo in progetto l'Alta Valle del Foglia con il depuratore di Ischietti e il collettamento di circa 50 chilometri di fognatura che consentirà di razionalizzare ben 13-14 piccoli depuratori che ormai sono obsoleti. sull'Alta Valle del Metauro abbiamo effettuato tutta una serie di ammodernamenti e potenziamenti degli depuratori cominciando da Urbagna Fermignano oggi stiamo lavorando su San Costanzo e Colle al Metauro e stanno avviando i lavori anche in questo comune per potenziare e raddoppiare il depuratore. Il servizio di ricovero e ristoro per Senzatetto Casa Tabanelli torna a pieno regime dopo le restrizioni da pandemia ora però cerca volontari per la sua opera caritatevole. Dopo le difficoltà dei mesi successivi al lockdown Casa Tabanelli torna a poter ampliare il numero di persone ospitabili nei suoi spazi. La struttura di Via Grande Torino dalla sua inaugurazione nel 2015 offre riparo notturno a persone senza fissa dimora danno sostegno alla loro condizione di povertà con ristoro di un letto una cena o una colazione. Ora può tornare a regime offrendo 18 posti letto ma per farlo cerca il sostegno di volontari. Casa Tabanelli riapre al volontariato perché in visione dell'inverno vorremmo ospitare molte più persone all'interno della struttura e per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Stiamo cercando persone disponibili a passare almeno una notte al Mede a Casa Tabanelli o a vivere il momento della colazione insieme agli ospiti. Questo ci permette aumentando la presenza di volontari parallelamente ci permette di aumentare la presenza di persone che in questo momento dormono fuori. Per cui in questa giornata così importante perché è vicino alla giornata mondiale dei poveri chiediamo veramente un aiuto a tutti per aiutare queste persone e far continuare l'attività di Casa Tabanelli. Come la Regione Marche anche il Comune di Pesaro ha revocato l'affidamento alla ditta Tundo del servizio di trasporto scolastico per gravi inadempienze. L'amministrazione comunica che il trasporto scolastico in via d'urgenza sarà affidato dal 15 novembre alla ditta Paolo Scoppio e Figlio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha deliberato un contributo di 3.000 euro a favore dell'Istituto Comprensivo Gaudiano per la realizzazione di un'aula morbida per gli alunni disabili uno spazio inclusivo idoneo per la lettura che è stato realizzato presso la Scuola Primaria Carducci di Pesaro. Quella di domani nella Sala Laurana di Palazzo Ducale a Pesaro sarà l'ultima giornata utile per visitare la ventiquattresima biennale promossa dall'associazione Emma Corvo in collaborazione con il Liceo Mengaroni. In mostra tanti artisti emergenti affiancati ai più affermati Anna Rosa Basile Graziella Bontempi Daniele Cataudella Ugo Felici Paola Ranocchi Francesco Sanfilippo e Roberta Tomassini. E ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni come sempre vi invitiamo a mandarci messaggi al numero Whatsapp 370-366-7210 Le foto che vi mostriamo ci sono state inviate da una residente di Santa Maria dell'Arzilla che ci evidenzia come continui lo scriteriato scusate abbandono di rifiuti fuori dalle isole ecologiche nonostante Comune e Marche Multiservizi come ben sapete da due mesi stiano facendo multe attraverso l'utilizzo di fototrappole itineranti E poi vediamo un'altra foto di questa telespettatrice anche lei chiaramente ringraziamo per averci segnalato tutto ciò le foto sono state scattate in Viaggiolitti dove ci riferiscono come da due mesi al quarto piano di un palazzo in ristrutturazione si continui a lavorare contravvenendo alle più basilari norme di sicurezza senza caschetto imbracature o ancoraggio nel caso di cadute estremamente pericolose E' già vigilia di campionato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che domani alle 20.30 sarà alla Vitrifrigo Arena contro la Gevi Napoli partita in cui la VL cerca il ritorno alla vittoria ma coach Luca Banchi non nasconde le incertezze sul recupero di Jones Ascoltiamo allora un estratto della sua conferenza prepartita svoltasi nell'inedita location dello spazio Conad alla Torraccia Sulla presenza di Tyreek penso che scioglieremo ogni dubbio soltanto domani il campo dovrà dimostrare quanto realmente questo infortunio possa aggravare sul suo rendimento e soprattutto condizionarlo perché trattandosi di un giocatore che fa del dinamismo l'atletismo la sua caratteristica principale speriamo che questo sia un infortunio che oltre che non provocare danno non lo limiti e niente come detto è stata una settimana un po' particolare vissuta con un po' di apprezzione con però l'attenzione rivolta ad una gara quella con Napoli che prevede uno sforzo sotto il profilo tecnico tattico e psicologico anche importante trovandosi in una soluzione di assoluta emergenza quindi questo stato attuale ci costringe una volta di più ancora di più a fornire una prestazione di alto profilo serve sicuramente la continuità quella che talvolta abbiamo smarrito nelle precedenti uscite anche a fronte di prestazioni convincenti è successo anche a Bologna di fronte ai campioni d'Italia siamo stati spesso in grado di controllare il ritmo della partita ma non sufficientemente da pensare di controllarla fino alla fine e tenere contatto con i nostri avversari è arrivato il momento di dimostrare sul campo che abbiamo la forza per poter conquistare le vittorie che sono alla nostra portata e concludiamo con un'altra notizia di sport ieri ha giocato allo stadio Benelli di Pesaro la nazionale under 20 di calcio che ha perso 2 a 1 con la Repubblica cieca nelle post partita il nostro Giorgio Ricci ha intervistato Alberto Bollini CT degli Azzurrini con un passato nella Vispesaro la partita che ci ha visto praticamente soccombere per due gol dopo 13 minuti poteva essere una partita compromessa il merito della squadra è stato che tra l'impegno l'applicazione la volontà non solo siamo tornati in partita con un bellissimo gol di Moro ma con questa determinazione che abbiamo avuto dopo il ventesimo del primo tempo la squadra non meritava certamente la sconfitta nel primo tempo anzi per l'occasione alla mode di gioco profusa meritava il pareggio poi contro avversari che sono super motivati contro l'Italia che hanno una vigoria atletica del genere però il nostro mea culpa che non si possono concedere tiri soprattutto nei primi minuti dove avevamo difficoltà un po' col duello difensivo e anche a sviluppare in attacco i ragazzi però non posso rimproverare nulla sul piano dell'impegno della negazione perché la squadra non meritava la sconfitta e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale prima però diamo uno sguardo alla programmazione di Rossini TV e quindi vediamo che questa sera le 21.20 in prima serata vi racconteremo la prima delle due giornate del cartocetto DOP Festival vi ricordiamo tra l'altro che appunto domenica ci sarà l'ultima giornata dedicata a questo festival e poi così come tutti i venerdì alle ore 20 arriva il Vallefoglia Magazine in replica alle 23.15 ma attenzione se non riuscite a vederlo stasera appunto l'informazione di Vallefoglia e Pian del Bruscolo potete seguirlo domani a mezzogiorno oppure alle 20.30 e così via per tutti i giorni che vedete scritti e domani mattina sabato alle 7.20 in diretta c'è la nostra rassegna stampa condotta in questo caso da Marco Cadeddu e vi ricordiamo anche che nella giornata di domani alle ore 18 diretta Rossini TV della partita L84 Italservice Pesaro e vi ricordiamo un'altra cosa perché sono tante le cose da segnalarvi questo è un nuovo programma che parte su Rossini TV quindi mercoledì della prossima settimana vedrete la prima puntata che è dedicata a Monbaroccio Green Tour è questo format che racconta il nostro bellissimo entroterra e allora grazie per essere stati con noi anche questa sera vi auguro davvero un buon fine settimana e mi raccomando seguite la programmazione di Rossini TV Grazie a tutti